Stanno quasi tutti bene i 75 extracomunitari giunti a Gallipoli nel pomeriggio a bordo di un peschereccio. Due del gruppo sono stati ricoverati in ospedale, uno è stato colto da malore e l'altro a una frattura. Nel gruppo ci sono una quindicina di minorenni. Il natante era stato localizzato a largo della costa salentina la scorsa notte a 48 miglia a sud di Leuca da un aereo islandese che collabora con il gruppo aereo navale della Guardia di Finanza. La rotta dell'imbarcazione è stata monitorata sino all'arrivo nelle acque territoriali italiane dove il peschereccio è stato bloccato da due motovedette delle fiamme gialle e scortato sino al porto di Gallipoli. Gli emigrati che hanno dichiarato di essere egiziani subito dopo lo sbarco sono stati rifocillati e hanno ricevuto assistenza, quindi sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. I finanzieri hanno anche fermato un extracomunitario la cui posizione è al vaglio degli inquirenti in quanto è sospettato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.